Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Give Car to Friend Era il glitch che dovevamo portare con Dark, era parecchio che c'era, però molti di voi non lo facevano perché dovevano comprare i caddy Ora lo fate per forza Allora i requisiti per fare questo glitch sono bunker, com e all'interno del com il veicolo da sacrificare Il vostro amico dovrà avere un bunker a caso, non è necessario che abbia il nostro stesso bunker E l'auto che ci vorrà passare ragazzi Quindi a questo punto siamo pronti, possiamo partire con il glitch ragazzi Come vedete nella schermata in alto a destra, quella è la schermata del nostro amico Il nostro amico che cosa dovrà fare? Si dovrà posizionare sulla schermata di retromarcia, nel senso guardando indietro E mettersi su gara improvvisata, a questo punto schiaccerà su gara improvvisata ragazzi E non accadrà nulla, come state vedendo comunque dalla sequenza E a questo punto il nostro amico dovrà andare direttamente indietro Quindi premerà cerchio per uscire dal menu interazione Scenderà dal veicolo, andrà a suicidarsi E subito dopo, successivamente, andrà nel playstation store ragazzi Nelle shark card, come state vedendo Se noi apriamo l'animazione ed entreremo dentro il bunker A questo punto il gioco sarà fatto ragazzi Quindi dovremo scendere dal veicolo E andare nel nostro bunker Perché ci siamo ritrovati nel bunker del nostro amico Quindi dovremo uscire dal bunker del nostro amico Ed entrare nel nostro bunker Ritroveremo l'auto anche nel nostro bunker Anche se il nostro bunker sarà in culo al mondo E quello del nostro amico sarà in fregna le stelle Comunque sia Ritroveremo l'auto all'interno del bunker E una volta che saremo dentro al bunker Sposteremo l'auto da questa piazzola Perché avremo bisogno di questa piazzola successivamente Anzi adesso Quindi sposteremo l'auto La metteremo in un punto Dove cazzo vi pare a voi ragazzi Entreremo nel com Prenderemo il nostro veicolo che abbiamo nel com O meglio il veicolo che vogliamo sacrificare Che potrebbe essere una LG O potrebbe essere un faggio Quello che cazzo volete voi Quindi a questo punto ragazzi usciamo E qui vi rendete conto da soli Perché ho spostato l'auto Quindi una volta che ci siamo spostati Ci dirigiamo dietro il nostro com Ci mettiamo dove sono io Apriamo internet Andiamo su made bank E andiamo per modificare il nostro bunker Ragazzi Quindi qui in bunker Andremo a fare una piccola modifica Quella meno costosa Cioè il caddy ragazzi A questo punto Selezioneremo il caddy Ci posizioneremo su acquista Schiaccieremo acquista Dopodiché due volte Tasto triangolo E spammeremo freccia a destra Per entrare nel com Fino a quando non sparirà La schermata nera Quindi a questo punto ragazzi Ci basterà salire sul veicolo Del nostro amico E come vedete Automaticamente ci spawnerà nel com E da questo momento Il veicolo sarà nostro ragazzi A questo punto Come vedete C'è ancora l'amico nel Diciamo nel playstation store Che comunque Potrà anche uscire tranquillamente Dal playstation store Una volta che abbiamo preso La sua auto E il glitch sarà fatto ragazzi E' veramente semplicissimo Questo glitch E' come si dice Una cagata di mosca E' proprio veramente Come ho già detto Una stupidaggine Quindi raga Approfittate di questo glitch Perché comunque Ci sono molti di voi Che per esempio Non hanno auto Dell'Arena War Quindi passatevi un'auto Dell'Arena War Io consiglio la Issy Consiglio non so La Dominator Ci sono parecchie auto Che costano molto Così ve le duplicate Mi raccomando Mettete la targa Personalizzata Appena avete preso l'auto Che cavolo Che cavolo devo aggiungere ragazzi Con questo glitch Potrete fare dei soldi Insomma Quindi Una volta fatti i soldi Sarete pronti per il casino Detto questo Vi ricordo Il canale Telegram Lo trovate in community Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao Ciao belli No mercy Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!